Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Ciao a tutti da Potenza in Basilicata. La realtà che vogliamo presentarvi nasce qui, presso la parrocchia di San Rocco Confessore, grazie all'intuizione di alcuni giovani che frequentano questa chiesa e che attraverso il progetto Policoro hanno voluto aprirsi ad una forma di accoglienza particolare, ponendosi al servizio del territorio in comunione con la diocesi. La cattedrale, intitolata a San Gerardo Vescovo, sorge nei pressi della Prefettura e del Teatro Francesco Stabile, costruito nell'Ottocento sul modello del Teatro San Carlo di Napoli. Centro d'eccellenza, l'ospedale San Carlo, tra i più estesi del sud Italia, accoglie 35.000 adegenti all'anno. Al loro servizio, l'ostello Il Volto. Andiamo a conoscere la mente di questo progetto. Come ti chiami? Francesco. Di dove sei? Potenza. Che lavoro fai? responsabile, ostello Il Volto. Il tuo motto? Ogni uomo e mio fratello. Francesco, benvenuto. Il volto nuovo di un'accoglienza che, pur inquadrata in quello che potrebbe essere appunto un ostello e quindi l'ottica della ricreazione, del divertimento, ha saputo intercitare delle esigenze nuove e diverse, che a volte toccano anche la dimensione delle emozioni, dei sentimenti. Nell'anno 2012, dalla comunità di San Rocco confessò l'impotenza, di cui molti dei nostri soci fanno parte della cooperativa, arrivarono delle sollecitazioni in merito all'ospitalità di decenti che si ricavano in ospedale. Ci siamo accorti dopo una ricerca che comunque c'erano persone che stabilmente sostavano nelle sale d'attesa oppure in macchina. Questo ha fatto sì che, grazie a un gruppo di ragazzi parrocchiali, abbiamo fatto una cernita di idee ed è venuta fuori questo tipo di servizio rivolto soprattutto alle persone che si recono in ospedale. E così avete pensato a questo ostello, così si legge, sul vostro sito, ma proprio dal vostro portale emerge un concetto un po' più ampio, forse pure più interessante, che è quello della famiglia, quindi non un semplice luogo dove far dormire per residenze, ma qualcosa di più. Quando nel 2014 abbiamo deciso di accogliere e di fare questo tipo di ospitalità, le paure erano tante, perché comunque è la prima esperienza anche per alcuni, è l'esperienza lavorativa, quindi saper rapportare con le persone, con gli ospiti ci metteva in una condizione un po' così di attesa. Ma con le prime accoglienze sono stati gli ospiti, in certo senso, a coinvolgerci nelle loro storie, quindi ci hanno insegnato quello che l'ascorto, la pazienza, la sofferenza. Ecco, noi abbiamo incrociato quello che era il volto della sofferenza con il volto della speranza. Sì, in effetti la vostra utenza è un po' particolare, parliamo dei parenti, dei degenti, quindi persone che sono fuori casa, però non per divertirsi, come dicevamo prima. Quindi il vostro lavoro è anche un lavoro che è molto di cuore, di sensibilità, vi rivolgete a persone che vengono qui e che vivono le loro difficoltà interiori. Grazie alla formazione anche acquisita in parrocchia, che è importante, ci ha permesso comunque di stabilire con gli ospiti una sorta di, io la chiamo economia delle relazioni, cioè le relazioni per noi è diventata una ricchezza. Oggi, ancora oggi, con alcuni ospiti, dopo aver condiviso gioie e anche dolori, magari per la perdita di un congiunto, ancora oggi ci sentiamo telefonicamente. Quindi mantenete delle relazioni con gli ospiti? Sì, in contatto con gli ospiti perché per loro è diventata anche un punto di riferimento questa struttura, e condiviso anche parte della loro sofferenza. Magari è potuto capitare, penso all'aspetto forse più triste e drammatico, anche difficile da gestire, che qualche ospite ha avuto il lutto durante la sua permanenza qui? Sì, effettivamente è capitato di condividere, poi fra virgoletto condividere un lutto, partecipare anche emotivamente con una persona che magari ha perso un familiare, però poi ti accorgi che sono loro che ti insegnano come reagire, ti trasmettono quella forza, a volte anche tu rimani stupefatto, non riesci, in loro vedi il volto di Cristo. E da qui il senso del nome che vi siete dati, il volto, che penso sia un arricchimento reciproco. Sì, c'è questo scambio di sensibilità, di condivisione. Quindi Francesco, ti sentiresti di suggerire un impegno del genere a dei giovani che magari anche in altre parti d'Italia, in altre regioni del sud, volessero impegnarsi, attivarsi in questa prospettiva, anche nell'ordine di quella che potrebbe essere una prospettiva lavorativa, quindi unire l'utile al divettevole. Quindi anche che consiglio gli daresti? Voi per esempio come siete partiti, quali sono i passaggi e cosa serve, se si volesse ragionare in questi termini, se un giovane volesse accogliere questa chiamata? Certamente mettersi in relazione con gli altri è difficile, però non bisogna demordere, nel senso che quando noi siamo partiti, avevamo un gruppo di ragazzi, sappiamo anche che lavorare insieme è difficile, lavorare insieme è difficilissimo, con i pregi e i difetti, però di fronte poi a un progetto, di fronte a un'idea, si superano le difficoltà, quindi il messaggio che io, giovani, posso dare è quello che comunque di buttarsi, avere il coraggio di buttarsi, di confrontarsi, ci sono dei punti di riferimento, la stessa parrocchia, un punto di riferimento per tanti giovani, dove da lì parte la formazione, dove lì si conoscono le persone, le esigenze, le idee, viene sviluppata l'idea. Francesco, quindi ci spieghi per bene come si svolge la vostra attività qui? Allora, noi veniamo condattati sia tramite telefono, sia tramite di persona, cioè le persone si recono presso l'ostello, quindi c'è un primo passaggio che è quello dell'accoglienza, dopodiché a secondo della richiesta, delle esigenze, un piccolo gruppo si riunisce per capire come poter andare incontro a quello che può essere un'esigenza dell'ospite, tipo se è una persona anziana, l'accompagnamento presso l'ospedale. La parrocchia, ma credo anche la realtà un po' più ampia, la chiesa locale, il progetto Policoro, in che modo il progetto Policoro vi ha aiutato a costruire questa realtà? Il primo passaggio viene fatto esponendo quello che è l'idea, gli obiettivi, la volontà al servizio da pastorale giovanile, che poi grazie al progetto Policoro si viene formati per la cooperazione, la cooperazione con il sostegno della chiesa locale. Viene fatta una formazione sia spirituale, viene la chiesa locale che poi accompagna neanche economicamente a sviluppare un progetto. Bene Francesco, adesso ci è venuta anche la curiosità di vedere questo posto, se ce lo porti a visitare, ci facciamo un giro. Certo, certo, volentieri. Allora benvenuti, questo è l'ingresso, adesso vi farò vedere all'interno della struttura. qui abbiamo la reception dove si rivolgono le persone per la prima accoglienza, qui invece è l'ufficio dove viene gestito la problematica della persona che chiede l'intervento, il nostro intervento, la nostra ospitalità. Qui invece abbiamo la cappella che di solito viene utilizzata quando fanno ritira spirituali, associazioni cattoliche, viene utilizzata questo luogo di culto. Qui abbiamo il refettorio, c'è la possibilità di poter soffrire di una bevanda oppure di quindi qualcuno se prende qualcosa dall'esterno può consumarla benissimo in questa sala. Bentornati, siamo con Francesco, la cooperativa Il Volto in questo che è un ostello ma anche qualcosa di più, un luogo di accoglienza per, abbiamo detto, una categoria particolare di persone, i parenti dei degenti presso il vicino ospedale. Francesco, adesso è il momento tanto atteso del tutorial, mi sembra di capire che ci sarà un tuo collaboratore che ci parlerà di che cosa? Sì, sarà Salvatore Colucci che è il referente al progetto Policoro della regione Basilicata, quindi vi porterà a visitare i lunghi sia della struttura e parlerà del progetto Policoro. Sono Salvatore Colucci, referente regionale per la Basilicata del progetto Policoro. Vi spiego in sintesi cos'è il progetto Policoro. Il progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa nato il 14 dicembre 1995. È formato da tre uffici della Chiesa, Pastorale Sociale del Lavoro, Pastorale Giovanile e Caritas Italiana, che appunto nel 1995 è deciso di far nascere questo progetto per dare risposte nel mondo del lavoro per i giovani, soprattutto nel mezzogiorno. Nel corso di questi quasi 25 anni di progetto si è allargato dal sud Italia, man mano salendo anche verso il nord si conta anche l'attività del progetto in regioni come Piemonte. Nel concreto il progetto Policoro cosa fa? Allora, innanzitutto si basa su un'idea di fondo dell'ideatore Don Mario Perti, cui sosteneva che non esistono formule magiche per creare lavoro, ma occorre investire nell'intelligenza e nel cuore delle persone. Quindi il progetto Policoro non dà delle risposte o delle soluzioni immediate, ma è il giovane che deve mettersi in gioco per crearsi un'opportunità di lavoro e di crescita. Nel concreto, come conoscere il progetto Policoro? In primis c'è il livello nazionale, quindi c'è un sito nazionale www.progettopolicoro.it in cui viene spiegato cos'è il progetto, ci sono una serie di materiali e soprattutto c'è una mappa dell'Italia, una mappa interattiva, dove è possibile andare a selezionare la regione di appartenenza e quindi poi per ogni regione le varie diocesi, quindi anche trovare il riferimento locale sul territorio nel proprio territorio di competenza. Il progetto Policoro è portato avanti da un animatore di comunità, che è la parte operativa del progetto, che è sostenuta dalla diocesi di appartenenza, quindi c'è un tutor di riferimento, i tre direttori degli uffici, che abbiamo detto, pastorale sociale del lavoro, pastorale giovanile, Caritas, e ha un mandato dal vescovo per operare sul territorio. I giovani si possono rivolgere al progetto, si hanno delle idee imprenditoriali da sviluppare e delle vere e proprie idee imprenditoriali, per creare un lavoro, che può essere una cooperativa, un'associazione, una ditta individuale, poi a seconda del proprio orientamento. Nel concreto il giovane può rivolgersi all'animatore di comunità, e l'animatore di comunità poi sul territorio in cui opera ha una serie di figure a cui fa riferimento, c'è una cosiddetta filiera, si divide in filiera dell'evangelizzazione e filiera più pratica, quindi c'è la filiera del lavoro, quindi la filiera dell'evangelizzazione ci sono le varie associazioni cattoliche, che può essere il Movimento Lavoratore di Azione Cattolica, la GESCI, quindi gli Scout, oppure Libera, per fare alcuni esempi. Dall'altro lato ci può essere con cooperative, col diretti, e quindi l'unione di queste filiere porta avanti il progetto Policoro. Inoltre il sostegno della Chiesa può essere operato in vari modi, questo anche varia a seconda del territorio. Ci può essere ad esempio la concessione di beni materiali, può essere delle strutture in disuso, che la diocesi può mettere a disposizione del progetto e quindi dei giovani per la creazione di imprese, oppure in alcune diocesi attiva anche il microcredito, una sorta di prestito agevolato per i giovani, di cui la diocesi poi si può fare garante per sostenere le spese relative dei giovani. Tutto questo ovviamente, diciamo, non c'è una linea comune in tutto il territorio nazionale, ci sono diocesi che operano in un determinato modo, diocesi che operano in un altro modo, però il progetto sostanzialmente è unico, poi ci sono diocesi che hanno magari il microcredito e altre no, quindi poi lì bisogna anche trovare il territorio adatto. Allora, in concreto il giovane si può riferire, ci sono centri servizi, vengono definiti le sedi locali del progetto Policoro, quindi se un giovane ha un'idea o vuole sviluppare un'idea imprenditoriale, va dall'animatore, può esporre la sua idea, la può esporre a voce, può portare anche qualcosa di concreto, già uno schema scritto, e poi dall'incontro con l'animatore può nascere una serie di... dal confronto può nascere un'idea sviluppata e l'animatore stesso può mettere in contatto con persone sul territorio, che possono essere, per esempio, se si tratta di una cooperativa con la conf cooperative del territorio, oppure se si tratta di un'idea più in ambito agricolo con la col diretti, quindi mettere in rapporto con la rete territoriale e da lì può sviluppare ulteriormente il progetto, che può essere anche un business plan, un model canvas, sono varie tipologie. Quindi tecnicamente il giovane può riferirsi ai centri servizi, come ho detto, si chiamano centri servizi, dislocati nelle proprie diocesi. Nel corso di questi 24 anni di progetto sono nate in Italia circa 470 attività, di queste 470 l'82% vengono definiti gesti concreti, proprio perché sono la concretezza dell'idea che poi nel corso dell'anno si è sviluppata. c'è l'82% di questi gesti concreti che sono attualmente attivi e ricadono un po' in tutte le attività, che può essere l'attività ricettiva, i servizi socioeducativi, i servizi alla persona, quindi sono varie tipologie. Sono molti giovani che nel corso di questi anni, partendo da una piccola idea, sono riusciti a sviluppare una cooperativa, a mettersi insieme e a portare avanti un'idea imprenditoriale che magari in un altro ambito non poteva trovare un terreno fertile su cui nascere, però grazie al sostegno della Chiesa e del territorio è riuscita a sostenere le attività e a dare lavoro anche ad altri giovani sul territorio. Il concetto di cooperativa è fondamentale anche per la Chiesa, soprattutto per la Chiesa. La cooperativa è diversa dalla ditta individuale. La ditta individuale è una persona che si mette da sola al lavoro, invece la cooperativa, proprio come dice la parola, è un lavorare insieme, quindi camminare con un passo unito, tutti insieme, quindi le persone che siano 3, 5, 10 persone, camminare unite, anche se a diverse velocità, però comunque raggiungere lo stesso obiettivo. Quindi chi è più veloce comunque rallenta un po' il passo per portare con sé anche chi è un po' più in difficoltà. In questo poi ci sono le cooperative sociali che hanno un valore importante, in cui vedono l'inclusione di soggetti svantaggiati che diversamente non troverebbero opportunità concreta di crescere e di lavorare. Allora, concretamente un giovane che ha un'idea può portare la sua idea, anche scritta sotto forma di appunti, poi andranno sviluppati, può andare dall'animatore di comunità e insieme si potrà intraprendere un discorso colloquiale, quindi trovare anche una realizzazione concreta di quest'idea, che può essere l'incontro con persone di riferimento del territorio che possono aiutare alla realizzazione e cosa importante è anche legata ai finanziamenti. Se non si dispone di un investimento personale, in alcuni territori è disponibile il microcredito, quindi le diocesi attivano sul territorio con delle banche, alcune convenzioni facendosi da garante, quindi prestando una certa somma di denaro per l'investimento da poi restituire e quindi ponendosi come garanti per portare avanti questo prestito. Quindi di qua poi non c'è una metodologia oppure una tempistica certa, come gli uffici pubblici, quindi ci può essere l'incontro con l'animatore, poi con il tutor, con le varie persone del territorio e di là poi sviluppare in corso d'opera l'attività. Può essere poi ovviamente il passaggio dal notaio per la formalizzazione dell'attività, che sia sotto forma di cooperativa, associazione o di terreno individuale, quello poi dipende anche dall'idea di fondo. E poi successivamente la chiesa può mettere anche a disposizione dei terreni, può essere direttamente dei terreni della diocesi, di appartenenza, dei terreni in disuso, possono essere delle strutture così come dei terreni, oppure come può essere l'esempio di Libera, che fa parte della filiera dell'enangelizzazione, che può mettere a disposizione i beni confiscati alla mafia, quindi dei beni che sono stati sottratti alla mafia e messi a disposizione per la creazione di progetti. Un invito lo farei anche ai parroci, forse il progetto non è ben conosciuto, soprattutto dei parroci, quindi potrebbe essere anche un'idea da dare ai giovani della propria parrocchia, oppure anche stesso ai parroci, di contattare l'animatore di comunità della propria diocesi, anche facendosi riferimento al sito, quindi trovando poi i contatti sul sito, e far crescere un po' a livello territoriale, nel proprio territorio, il progetto, perché non sempre, anche all'interno della chiesa, è ben conosciuto. Francesco, è stato davvero un momento interessante, ne abbiamo sempre parlato, citato del progetto Policoro, però non eravamo mai entrati così nello specifico, siamo in battuta finale, e io ti ringrazio per averci accolto veramente in maniera esemplare, e non so se ti senti di lanciare un ultimo messaggio ai giovani che ci stanno ascoltando. Io vi ringrazio, è il messaggio che posso lanciare ai giovani, e soprattutto quello di non demordere, cioè se avete un'idea, se avete bisogno di parlare con qualcuno, rivolgetevi, il vostro parroco rivolgetevi, è quello che l'ufficio pastorale giovanile, coraggio, quindi è una questione di volontà, credo che sia tutta una questione di volontà, auguri per tutto e grazie. 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 Grazie.